Patrizia, accanto a noi il ministro cardinale, presidente di questo partito di Sicilia Futura, un personaggio importante che ti sostiene? Posso disconoscere l'importanza che è maggiore di quanto se ne possa pensare perché è il numero uno in Sicilia e lui è quello che in qualche modo detiene anche la scacchiera, ma questo non lo voglio dire a mio vantaggio, lo voglio dire perché dare a Cesare quel che di Cesare, a mio vantaggio dico solo che io sono quella che sono, voi mi conoscete, ho carattere, ho coraggio, sono leale, sono onesta e sono una persona che ha voglia di fare qualcosa di concreto perché basta con le parole, la gente è stanca, noi siamo stanchi, noi vogliamo i fatti, vogliamo persone per bene, vogliamo più donne perché la politica delle donne è la politica del fare. Aver la scelta tra l'altro come capolista è un segnale importante? Certo, è un segnale, è un segnale verso un mondo che è stato molto trascurato, tenuto da parte, che invece bisogna valorizzare, il mondo delle donne, il mondo delle donne professioniste, il mondo delle donne intellettuali e impegnate, che opera in un settore delicatissimo quello della informazione e quindi chi meglio di lei poteva guidare la nostra lista in provincia di Trabani. Noi abbiamo bisogno di queste testimonianze, di questo impegno per cercare di promuovere programmi, iniziative e anche donne e uomini che possano validamente rappresentare siciliani al Palazzo dei Normanni. Patrizia è una che professionalmente si è sempre distinta ed è stata molto apprezzata, sicuramente è un grande valore che noi teniamo in buon conto e in grande considerazione. Il suo impegno per Sicilia Futura non passa inosservato e non solo a Marsala e quindi non posso che invitare tutti i vostri teleaspettatori e mi pare che sia un invito che possa essere accolto a votare Patrizia e a votare per Sicilia Futura. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, una giornalista determinata, coraggiosa, sempre in prima linea, impegnata nel sociale e contro la violenza sulle donne. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura. Mi sono sempre battuta per i problemi del territorio. Quando sono venuta in Sicilia ho pensato, va bene, lascio un quotidiano importante, però ci sarà tanto da fare in Sicilia, ci sarà tanto da lavorare. Invece mi sono accorta che poi mancava la volontà, l'impegno, a volte anche i soldi delle emittenti per poterti far fare tutto quello che volevi, ma nonostante questo non mi sono mai risparmiata. Sono sempre scesa in campo e ho fatto con grande coraggio questo lavoro di assistenza e servizio per la città, per i cittadini e per il territorio. So di essere una persona credibile e quindi voglio continuare il mio percorso anche laddove i bottoni servono per essere schiacciati e per poter far diventare un'idea, un progetto. Tu devi sapere che cosa ha bisogno il territorio e non lo sai se stai seduto su una poltrona dietro una scrivania, lo sai se sei tra la gente, se l'ascolti, se gli dai la possibilità di incidere e per incidere bisogna esserci. Quindi votare un deputato, candidato come Patrizia Paganelli significa esserci, perché io vi do la mia parola d'onore, quello vero. Io ci sarò per tutti, questo è sicuro. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura, con Micari Presidente. Ho scelto questo spot elettorale perché intanto l'inno mi appartiene, a me piace cantare, suono, mi diverto con gli amici e ogni volta noi finiamo la sera con l'inno. Non c'è una volta che non terminiamo anche il giorno del mio confleanno, alcuni amici miei che sono qua lo sanno, concludo sempre con l'inno perché ho un grande senso dello Stato e delle istituzioni e quindi l'inno in qualche modo mi fa riflettere e permette a me di sentirmi in sintonia con quel mondo che sento che mi appartiene. Nell'inno intravedo anche tutti gli uomini per bene che hanno lottato per questa terra e quegli uomini e quelle donne che molto spesso sono diventati eroi per caso, soltanto perché avevano voglia di fare il loro dovere. Quegli uomini e quelle donne che sento di amare molto e in particolare non perdo mai l'occasione, non in campagna elettorale, da sempre, di ricordare il grande Rosario Olivatino perché tra tutti è quello che sento più vicino. Sento più vicino perché aveva un grande senso della fede e anche quando pensava che qualcuno aveva commesso un errore e andava punito diceva va punito il reato, non la persona, perché nel momento in cui una persona finisce di spiare la propria colpa e quindi del carcere che gli è stato dato, è giusto che possa e debba essere inserito nella società. E questa è una cosa che io apprezzo molto perché lo trovo molto cristiano come concetto, non da vendetta, la vendetta appartiene ad altri. Infatti mi dispiace molto quando una persona conta tantissimo e poi gli succede una disgrazia e tutti lo abbandonano. La fedeltà sta proprio in questo, nel rimanere fedeli, come dicono i carabinieri, e nei secoli fedeli fino alla morte, quando si è veramente amici di qualcuno. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, una giornalista determinata, coraggiosa, sempre in prima linea, impegnata nel sociale e contro la violenza sulle donne. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura. Mi sono sempre battuta per i problemi del territorio. Quando sono venuta in Sicilia ho pensato, va bene, lascio un quotidiano importante, però ci sarà tanto da fare in Sicilia, ci sarà tanto da lavorare. Invece mi sono accorta che poi mancava la volontà, l'impegno, a volte anche i soldi delle emittenti per poterti far fare tutto quello che volevi, ma nonostante questo non mi sono mai risparmiata. Sono sempre scesa in campo e ho fatto con grande coraggio questo lavoro di assistenza e servizio per la città, per i cittadini e per il territorio. So di essere una persona credibile e quindi voglio continuare il mio percorso, anche laddove i bottoni servono per essere schiacciati e per poter far diventare un'idea, un progetto. Tu devi sapere che cosa ha bisogno il territorio e non lo sai se stai seduto su una poltrona dietro una scrivania, lo sai se sei tra la gente, se l'ascolti, se gli dai la possibilità di incidere e per incidere bisogna esserci. Quindi votare un debutato, candidato come Patrizia Paganelli significa esserci, perché io vi do la mia parola d'onore, quello vero, io ci sarò per tutti, questo è sicuro. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura, con Micari presidente.